Il mio tradizionale bentrovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia in versione elettorale. Come tutti quanti voi ormai sapete stiamo incontrando i candidati sia per le politiche sia per le regionali per conoscere le loro idee dell'Italia, della Sicilia, del futuro e far sì che voi da casa che ci seguite possiate farvi un'idea, scegliere chi ritenete possa meglio rappresentarvi. Il nostro ospite in studio è Anna Maria Furlan, buonasera, grazie per essere venuta a trovarci in questi studio di Talk Sicilia. Sicuramente la ricordate come segretario generale della CIS, un ruolo che ha ricoperto per diverso tempo, oggi è candidata al Senato nella Sicilia occidentale nella lista del PD, è un ospite un po' nella lista del PD, possiamo dire così? Certo, l'importante è una scelta che è coerente con la mia vita. Io mi sono sempre occupata di lavoro, problemi dei lavoratori, delle lavoratrici, dei giovani che vorrebbero tanto diventare lavoratori e lavoratrici, invece sono spesso disoccupati o precari e il PD ha messo al centro il tema del lavoro nel suo programma, quindi la scelta è conseguente alle scelte mie di vita. Prima di cominciare a entrare nei temi del lavoro e di tutto il resto di cui c'è da parlare per il futuro del paese, la polemica che ha accompagnato alcune candidature, fra cui la sua, la cosiddetta polemica sui paracadutati, la scelta di candidare in Sicilia chi siciliano non è, come la vive lei e cosa risponde a chi lancia queste polemiche? Guardi, la vivo molto bene, io sto incontrando migliaia di cittadini e di cittadine in questi giorni e non c'è polemica, c'è voglia invece di futuro, c'è voglia di ripartire dal lavoro, dalla dignità delle persone. A me è stata chiesta da parte del Partito Democratico una disponibilità a candidarmi da dove c'era bisogno, anche probabilmente delle competenze che ho maturato in tanti anni di vita sindacale. Mi è stata proposta la Sicilia e è una proposta che ho accolto con gioia, una regione che dal punto di vista sindacale, del lavoro, ho seguito per tanto tempo nella mia attività nazionale e metto ben volentieri a disposizione le mie competenze sul lavoro, sul tema che credo sia la priorità da affrontare e dando un contributo per migliorare le cose. Entriamo allora nell'argomento lavoro, ma prima ancora che nel lavoro, nell'argomento di questi giorni, di queste settimane. L'ultima polemica elettorale che si è vissuta è stata tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte e ha riguardato il reddito di cittadinanza, ma è un argomento che è un po' canale conduttore di tutte le campagne elettorali, lo Stato per le amministrative, lo è per le regionali, lo è per le politiche. Da donna che si occupa di lavoro da sempre, mi lasci dire questa cosa, come vede questo reddito di cittadinanza? È uno strumento di aiuto, è uno strumento valido o è uno strumento che rischia invece di decurtare le facoltà, la voglia di lavoro dei giovani? Guardi, intanto bisogna dire un po' le cose come stanno, dire la verità. Il reddito di cittadinanza ha salvato dalla povertà assoluta, in modo particolare durante tutto il periodo più acuto della pandemia, tante mediaia di persone, tante mediaia di famiglie. Quindi meno male che lo abbiamo avuto, sarebbe stata una tragedia non avere nessun supporto alle famiglie più in difficoltà, in stato di povertà. Certo non ha funzionato il rapporto con il lavoro, questo va assolutamente rafforzato, intanto creando il lavoro, perché per distribuire il lavoro innanzitutto bisogna crearlo. E poi seguendo le persone che possano passare dal reddito di cittadinanza al reddito da lavoro, innanzitutto facendo tanta formazione, bisogna renderle occupabili le persone disoccupate. Quindi sì a reddito di cittadinanza, non sono per niente d'accordo con chi dice di abolirlo, va profondamente rivisto, rafforzato, a tutela intanto delle famiglie numerose e soprattutto per collegarlo al lavoro. Formazione quindi è la parola chiave per passare dal reddito di sostentamento a quello dal lavoro, ma proprio la formazione è uno dei grandi temi che troppo spesso in Sicilia, e quindi l'essendo candidata siciliana di questo dovrà anche farsi, fra virgolette, carico, se l'eletta non ha funzionato qua. Guardi, il tema della formazione dell'istruzione è fondamentale, lo è in Sicilia come lo è in tutto il paese e qui abbiamo delle contraddizioni enormi. Da una parte le aziende chiedono professionalità che non ci sono sul mercato del lavoro e quindi una formazione mirata rispetto al lavoro è indispensabile. Dall'altra abbiamo, e qui la Sicilia ha un primato davvero triste, migliaia e migliaia di giovani laureati e laureate che dopo tanti anni di studio, con grandi, grandissimi sacrifici delle famiglie e sono poi costrette a prendere la valigia, dentro la valigia mettere i propri soni, la propria cultura, le cose che hanno studiato, approfondito per tanti anni e andare in un altro paese per crearsi il futuro. Allora il tema della formazione è essenziale, sia per fare in modo che i nostri giovani rimangano in Sicilia, rimangano nel nostro paese e sia per rendere occupabili i tanti disoccupati che non hanno una professionalità richiesta sul mercato. Quindi ripartire dal creare il lavoro, gli investimenti nello sviluppo e gli investimenti sulla formazione sono quello che fa la differenza. Il centro destra presenta un programma di governo futuro nel quale parla di investimenti per 100, 105 miliardi addirittura, che danno anche un piano dal quale dovrebbero reperire questi fondi e al centro mettono le infrastrutture come strumento per il lavoro. Noi abbiamo un'occasione straordinaria in Sicilia come in tutto il paese, tanti miliardi che l'Europa ci ha dato da investire su sviluppo, crescita, infrastrutture, formazione, sanità, coesione sociale. 207 miliardi più i fondi europei. Per la Sicilia parliamo di circa 50 miliardi. Non vanno sprecate queste risorse. Purtroppo negli anni molto molto spesso in Sicilia non si è stato in grado nemmeno di spendere le tante risorse europee che potevano invece trasformare sviluppo, occupazione, crescita, benessere sociale in positivo. È per questo che bisogna scegliere bene in che mani devono andare queste risorse perché non un euro deve essere sprecato. Dei 207 miliardi il Partito Democratico ha voluto fortemente che il 40%, almeno il 40%, rimanesse nel sud. Ecco, quando sento la destra dire che va ridiscusso il PNR e sento la destra dire che il Ministero dello Sviluppo e della Digitalizzazione va spostato da Roma a Milano, mi preoccupo molto perché ho l'impressione che come nel passato la destra ha fatto, qualcuno pensi di portare altrove le risorse destinate al sud, dobbiamo impedirlo. E però, come giustamente accennava anche lei, troppo spesso queste risorse sono andate perse al sud perché non abbiamo avuto la capacità di spenderle opportunamente. C'è un grande tema che è quello proprio della capacità progettuale di una burocrazia un po' troppo ingessata. Come si affronta questo tema? C'è un tema di competenze nelle istituzioni siciliane. Questo vale per la regione come vale per i comuni. Per questo il Partito Democratico dice assumiamo nella pubblica amministrazione. Subito 300.000 assunzioni nella pubblica amministrazione. Perché se un comune non ha le professionalità per fare i progetti e seguirli, se in regione non abbiamo le competenze, succede quello che è successo tante volte. I progetti che si presentano, quando si presentano, sono bocciati perché sono fatti male. Ecco, questo non è più ammissibile. Come non è ammissibile? La carenza che abbiamo nella sanità in questa regione. Una cosa vergognosa. Guardi, quando è scoppiata la pandemia, noi ci siamo ritrovati davanti a una malattia sconosciuta a mani nude, ma completamente nude, perché non avevamo le mascherine, non avevamo i respiratori. In una città come Palermo, avevamo circa 10 posti letto in terapia intensiva. Ecco, investire sulla sanità significa anche assumere i precari infermieri, medici, operatori sanitari che abbiamo presenti nei nostri ospedali e ripartire da quello che l'ultimo governo di destra aveva annientato, e cioè la sanità territoriale. Se davanti alla pandemia noi avessimo avuto una buona struttura territoriale di sanità, probabilmente avremmo avuto molti lutti di meno. Uno dei grandi temi che si sta affrontando in queste ore, parlando di sanità, quindi mi faccio condurre dalla sua risposta verso un altro argomento, è proprio quello della carenza di medici. Troppo spesso non abbiamo abbastanza medici, anche quando li si vogliono assumere. E allora, è una soluzione togliere il numero chiuso con le università, così incrociamo sanità, formazione e lavoro? O quale altra soluzione può esserci, anche perché togliere il numero chiuso significa formare medici, ma fra 6, 7, 8, 10 anni? Beh, intanto non è proprio concepibile che davanti alla carenza che abbiamo di medici, se noi guardiamo i prospetti di quanti medici andranno in pensione per l'età anagrafica che hanno. Nei prossimi 4-5 anni scopriremo che avremo oltre la metà dei medici italiani che vanno in pensione. E allora perché il numero chiuso all'università? A che pro il numero chiuso alle facoltà di medicina? Ecco, io credo che la prima questione da affrontare sia proprio questo. Abbiamo carenza di medici, in prospettiva ne avremo metà di quelli che già oggi abbiamo e sono insufficienti, sia negli ospedali che nella medicina di base. Perché il numero chiuso? Chi è avvantaggiato dal numero chiuso? Sicuramente non i tanti ragazzi e tante ragazze che vogliono invece studiare da medico e soprattutto non sono avvantaggiati i cittadini e le cittadine. Però c'è quindi un problema di baronato secondo lei nelle università italiane? Beh, mi sembra che sia abbastanza evidente. Dobbiamo scollarci di dosso queste remore e queste chiusure. Anzi, al contrario, dobbiamo incentivare i nostri ragazzi, le nostre ragazze perché vogliano un domani iniziare un percorso di vita professionale nella sanità. medici, ma non solo medici. Questo vale per tutte le figure sanitarie che oggi sono terribilmente carenti e nella pandemia questo ha creato un disastro. Quindi c'è un problema di tutte le figure sanitarie e parasanitarie e questo è abbastanza evidente. Tornando a parlare di lavoro, anche se stiamo in realtà parlando di lavoro, pur parlando di salute, sono due grandi temi. I giovani, che più volte ha nominato, ma c'è anche il tema del lavoro femminile. E nel tema del lavoro femminile si innesta anche il tema dei servizi. Esatto, io credo che sia evidente come in questa regione la carenza di servizi, una cosa vergognosa, di fatto influenza in modo molto molto negativo. La vita, la qualità della vita delle persone, delle famiglie e in modo particolare il lavoro femminile. Ma si tagliano anche le aree all'infanzia. Ma perché un bambino o una bambina che nascono a Palermo non hanno diritto al nido, se non privato, che costa moltissimo alle famiglie. Non hanno diritto alla scuola elementare a tempo pieno. Tante attività, offerte ai bambini, la mattina e anche il pomeriggio. Ecco, già così si creano le future differenze, gli svantaggi futuri. Guardi, c'è una cosa che non dobbiamo permettere che in questo paese si perpetui, perché purtroppo c'è già. Rubare i sogni all'infanzia, rubare il futuro ai bambini e alle bambine. È per questo che investire sui servizi significa creare il futuro per gli attuali bambini e bambine, ma significa anche un po' di giustizia sociale. Quando non ci sono i servizi e tutto è privato, è lì che si perpetuano le grandi ingiustizie sociali. C'è il grande tema però che molti di questi servizi sono offerti dai comuni e i comuni nel sud più che al nord sono in grandi difficoltà economiche. La conseguenza dei bilanci carenti è il taglio dei servizi. Come si fa ad aiutare questi comuni a uscire da questa impasse creata da anni di malgoverno, se vogliamo, ma anche da una legge che forse è cavata come una mannaia su questa situazione? E che va rivista perché è indispensabile che i comuni abbiano i bilanci a posto, ma che nei bilanci a posto ci siano le condizioni per investire sul sociale, investire sui trasporti, investire sui servizi alle famiglie. Ecco io credo che qua la regione abbia fatto ben poco in questi anni e sotto gli occhi di tutti, la mancanza di una regia regionale, di una responsabilità sulla programmazione, sui investimenti, sui sostegni al comune bisogna cambiare. Ma non soltanto a livello regionale, perché per i comuni c'è una legge nazionale e ci sono dei trasferimenti che sono sufficienti. Ed è lì che bisogna uccidere. Noi alle volte sentiamo le istituzioni nazionali come qualcosa di distante. No, devono essere molto vicine, rendersi conto di come si vive su un territorio e degli strumenti che un territorio deve avere per garantire qualità della vita alle persone. Automaticamente mi viene da pensare a tanti altri servizi. Se ha girato, come certamente ha girato in questi giorni, avrà visto Palermo, ma non soltanto Palermo, estremamente sporca. Una città che ha carenze e difficoltà di servizi. E possiamo parlare di tanto altro, perché possiamo parlare della situazione del cimitero o dei rotoli, possiamo parlare di mille altri servizi essenziali che non vengono resi per carenze. Da questo punto di vista, da senatore eletto in Sicilia, cosa penso si potrebbe fare? Beh, intanto creare le condizioni perché le tante risorse del PNR, proprio su questo tema, diventino progetti e progetti realizzati. Io è per quello che continuo a dire. Noi abbiamo un'occasione straordinaria e irripetibile. Tante risorse come non le abbiamo mai viste. Bisogna mettere le istituzioni locali in condizioni di spenderle, perché se no, ancora una volta, come succede da tanto tempo, le risorse non spese ritornano all'Europa, che a sua volta, giustamente, io dico, le distribuisce a quei paesi che si mettono in condizioni di spenderle. Allora c'è un tema importante che è la capacità e la competenza che deve essere la prima dotazione che diamo alle nostre istituzioni, anche rispetto al ciclo dei rifiuti, anche rispetto alla mobilità, anche rispetto alla manutenzione delle strade, anche rispetto alle infrastrutture. Guardi, sento tanto discutere ponte sullo stretto. Era una domanda successiva. Ponte no. Io sono per farne 10, 20, 30 ponti. Ma se poi da Ragusa a Palermo ci si impiega una giornata per spostarsi, il ponte servirà veramente a poco. Quindi io credo che sul tema dei servizi e delle infrastrutture noi ci giochiamo il futuro di quest'isola, di questa regione, ma del paese tutto. Il tema di questi giorni che preoccupa moltissimo le attività e le famiglie è quello della crisi energetica. La crisi energetica che ha messo veramente in ginocchio, improvvisamente, molte attività che hanno visto quadruplicare, quintuplicare i costi energetici. Da questo punto di vista qualcosa si comincia a fare, ma forse siamo troppo lenti per rispondere alla crisi grave che ci sta colpendo. Intanto una crisi energetica per la quale dobbiamo ringraziare Putin non nasce dal nulla, no no, nasce dalla guerra che Putin ha dichiarato alla popolazione ucraina e dal ricatto, perché di questo stiamo parlando, minaccia e ricatto che attraverso il gas fa a tutti i paesi europei, compreso il nostro. Quando sento un po' di tentennamenti, ma in fondo togliamo le sanzioni, ma in fondo non è così cattivo. Dobbiamo ricordarci cosa significa quel tipo di scelta. Guerra e morte, morte in Ucraina, sotto scacco e sotto ricatto i paesi europei. E l'Europa deve reagire, deve mettere un tetto al costo del gas. Ma dobbiamo anche utilizzare, anche qua, tutti gli strumenti e le risorse del PNR per renderci più autonomi per quanto riguarda l'energia. Nel frattempo, ovviamente abbiamo chiesto dei provvedimenti che diano risposte subito alle famiglie e alle imprese. Stanno chiudendo le imprese e quando chiudono le imprese abbiamo più disperazione, più disoccupati. Il Partito Democratico ha chiesto il raddoppio immediato del credito di imposte per le imprese e la cosiddetta bolletta sociale. Le famiglie non sono in grado minimamente di affrontare un costo così alto delle bollette e deve intervenire lo Stato. Il Presidente Draghi ha già assunto alcuni provvedimenti. A proposito ricordo a me stessa, ma lo ricordo a tutti, che oggi a New York Draghi viene premiato come miglior statista del 2022, mentre invece in questo paese alcune forze politiche hanno fatto cadere il governo. Immaginiamo come ci vedono nelle altre parti del mondo. Alcune cose il Presidente Draghi le ha già messe in campo, non basteranno, dovremo assolutamente sganciare dal costo del gas e l'energia, in modo particolare quella fatta attraverso le rinnovabili, perché il sole e il vento non costano di più, fortunatamente per noi costano uguali, ma anche investire, investire sulle rinnovabili e rendere il nostro paese più autonomo, meno dipendente per quanto riguarda l'energia. Il tempo della nostra disposizione è quasi finito, come ho fatto in tutte le puntate di Torc Sicilia elettorale, 30 secondi per un appello al voto. Perché i siciliani debbono votare il PD e Anna Maria Furlano? Devono votare il Partito Democratico perché è il partito che ha messo al centro del suo programma, il tema del lavoro che significa la dignità della persona, il tema della coesione sociale, come viviamo bene e meglio in un paese dove il dialogo tra i giovani e gli anziani, gli uomini e le donne crea una società più giusta. Io per quanto riguarda il voto a me stessa la dico così, per 40 anni ho fatto la sindacalista, mi sono occupata di lavoro, di lavoratori, di lavoratrici, di pensionati, di pensionati, dei giovani che il lavoro non ce l'hanno e la mia esperienza la metto a disposizione per i cittadini e le cittadine di questa bellissima ma anche tanto triste regione quando parliamo di disoccupati e di giovani che devono emigrare. Grazie allora ad Anna Maria Furlano per questi 24 minuti che ci ha dedicato, grazie soprattutto a voi che avete seguito anche questo appuntamento e vi rinnovo per il prossimo appuntamento con Talk Sicilia. Arrivederci.